Io so che ti sei ripreso benissimo da un infortunio, ma non vogliamo rischiare, e io non lo farò, amici interisti, a casa, non gli salterò in spalla, e quindi, però ti volevo chiedere, visto che ormai è prassi, poghiamo con i politici e quindi ti chiedo, hai voglia di fare tre flessioni? Per te sì. Perfetto. Allora, mettiamoci qua, qua magari al centro, ecco se tu stai con la testa girata, no no, con... Così? Ma anche così di profilo, perfetto. Allora, tu scendi per fare le flessioni, io controllo. Che grande, grazie! Sono bastati? Cinque, sei.